Google Chrome, uno dei browser ad oggi più utilizzati nel mondo dei computer. Alcuni credono che sia un prodotto creato per invadere la nostra privacy. Altri credono invece che sia un modo per raccogliere informazioni su di noi e controllare ciò che facciamo online, influenzando anche le nostre decisioni politiche. Ma qual è la verità? Google Chrome è davvero il migliore browser web del mondo o c'è altro sotto? Questa storia ha iniziato nel 1995, quando un programma noto a tutti noi come Internet Explorer veniva inserito per la prima volta all'interno di Windows. In passato, i nuovi utenti che iniziavano timidamente a collegarsi per la prima volta ad Internet non facevano altro che accendere il proprio computer e cliccare sul browser di default. Tutto ciò portò a diventare Internet Explorer, il browser web più utilizzato del mondo. Il fatto però che fosse il più utilizzato non significava automaticamente che fosse anche il più popolare tra le persone. Internet Explorer era infatti la scelta obbligata per tutti i produttori di computer che non potevano far altro che assecondare Microsoft e la propria decisione di imporre un meccanismo di ricerca ai propri utenti che all'inizio sembravano non essere troppo interessati a come accedevano su Internet. Per molti la Microsoft però era l'azienda che rappresentava tutto ciò che c'era di sbagliato nella società capitalistica e molti utenti iniziarono per questo motivo a supportare un progetto open source chiamato Mozilla Firefox. Per molti anni Firefox divenne il browser preferito di molti e nel 2010 aveva già conquistato il 20% del mercato. Ma lo sapevate che se Firefox avesse avuto qualche anno in più sarebbe diventato il browser web dominante? Peccato che Google avesse un piano diverso. Analizzando questo malcontento comune la Big G iniziò a notare che gli sviluppatori chiedevano a gran voce un browser web che li rappresentasse ma soprattutto che non rallentasse il proprio lavoro nello sviluppo di pagine web. Così il 2 settembre del 2008 nacque il protagonista di questo video ovvero Google Chrome. Uno strumento che aveva solamente un obiettivo essere il browser fatto dagli sviluppatori per gli sviluppatori. Circa 5 anni dopo il lancio pubblico di Google Chrome il pubblico generale iniziò a notarlo sempre di più. I siti web iniziavano ad apparire pieni di errori e bug se eseguiti all'interno di un browser di Internet Explorer. E quindi le persone iniziavano piano piano a cercare delle alternative e nella loro mente si stava già formando l'idea che Internet Explorer era il peggior browser sul mercato. Notando che c'era meno lag, che il browser web non crashava così spesso ma soprattutto che l'intera esperienza era più fluida gli utenti iniziarono a passare su questo nuovo prodotto Google. E fu così che tra il 2009 e il 2015 la fetta di mercato di Internet Explorer crollò dal 65 al solo 15%. Analizzando i propri passi la Microsoft iniziò a capire che un browser web utilizzato così tanto da così tante persone aveva bisogno di essere supportato maggiormente. Insomma si pentì di aver lasciato Internet Explorer completamente allo sbaraglio così come si pentì di non aver dato la giusta importanza ad argomenti fondamentali come la privacy e la protezione dei dati dei propri utenti. Ma a proposito, quante volte vi siete connessi ad una rete pubblica e avete temuto per la sicurezza dei vostri dati? Siete pronti a proteggere la vostra identità online come un vero professionista? E allora preparatevi perché abbiamo a disposizione un grande alleato CyberGhost VPN. Con questo strumento il vostro IP sarà oscurato e tutti i vostri dati saranno criptati, privati e trasmessi attraverso un tunnel super sicuro. In questo modo difenderete la vostra privacy da hacker e malintenzionati. Questo strumento protegge ad oggi i dati di più di 38 milioni di utenti attivi e con le sue 5 stelle su Trustpilot è ad oggi una delle VPN migliori sul mercato. Oltretutto con CyberGhost potrete superare i blocchi di centinaia di servizi streaming. Sarà un gioco da ragazzi e accedere a tutti i contenuti bloccati al tuo paese di Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney Plus e il tutto senza perdere velocità oppure reattività. CyberGhost VPN è disponibile per tutte le piattaforme. Windows, Mac OS, Android, iOS. E potrete addirittura utilizzarlo sulle vostre console o smart TV fino ad un massimo di 7 dispositivi contemporaneamente per soli 2,03€ al mese. Praticamente il costo di un paio di caffè. Ah, e oltretutto per voi iscritti ci sono 4 mesi di prova gratuiti in regalo. Questa offerta è disponibile per un tempo limitato. Quindi cliccate adesso il link che vi lascio in descrizione e se non siete convinti avrete una garanzia con ben 45 giorni di tempo e un'assistenza attiva 24 ore su 24 sempre a vostra disposizione. Proteggete ora la vostra identità online scegliendo CyberGhost VPN. Ma insomma torniamo alla nostra storia. Microsoft si pente di questa mossa e decide di portare sul mercato un prodotto rivoluzionario chiamato Microsoft Edge. Lanciato nel 2015 insieme a Windows 10, questo browser web purtroppo non ebbe troppo successo. Ormai le persone utilizzavano il browser web di default solo per scaricare Google Chrome senza nemmeno disturbarsi o pensare che il nuovo Edge poteva effettivamente essere una scelta valida. Dopo i flop di Windows Phone e continui problemi di Microsoft, il CEO Satinadella riconobbe la propria sconfitta e scelse per questo motivo di accogliere Chrome direttamente all'interno di Edge. Nel 2018 Microsoft annuncia che avrebbe cambiato Edge e che da quel momento avrebbe basato lo suo prodotto proprio su Chromium. E adesso ragazzi vi stupirò perché sebbene tutti quanti siano convinti del contrario, Edge è ad oggi uno dei migliori browser web in circolazione. Semplicemente le persone non hanno mai deciso di cambiare le proprie abitudini e la propria esperienza negativa avuta con Internet Explorer in passato. Microsoft, che attualmente collabora con Chrome, afferma che Edge è addirittura più veloce del 112% di Chrome. E anche i test danno questi risultati. Se cercate un po' su Internet e andate a vedere su Browser Bench, vedrete che Edge è più efficiente di Chrome e addirittura utilizza molta meno RAM. Con 60 schede aperte, infatti, il nostro caro Chrome consuma ben 3,7 GB di memoria, mentre Edge ne utilizza solo 2.9. Dunque Edge è marginalmente più veloce ed efficiente di Chrome, giusto? Ma alla velocità, ragazzi, non è mai stato l'unico fattore da prendere in considerazione. Ad esempio, il motore di ricerca di default di Edge è sempre stato Bing. E Bing, come Internet Explorer, non ha mai goduto di un'ottima reputazione in merito alle proprie vicende che sono avvenute in passato. Insomma, quando pensavo a Bing, ci veniva sempre in mente un motore di ricerca di seconda scelta e quindi sicuramente inferiore a Google, giusto? Vista però la recente introduzione di chat GPT all'interno di Bing, Microsoft sta cercando di risollevare questo prodotto. E dopo il suo investimento di 10 miliardi di dollari, le cose non potranno che migliorare. Vedo già in un sacco di voi che alzano la mano e dicono Eh, ma Dani, ma su Chrome ci sono le istensioni che sono davvero comodissime. Assolutamente sì, ragazzi. Ma da quando Chrome ed Edge lavorano insieme, le stesse estensioni di Chrome possono essere tranquillamente utilizzate anche su Edge. Perché? Perché è basato su Chromium e quindi questa collaborazione ci consente di fare una scelta più consapevole. Oltretutto, non volendo fare pubblicità ad Edge in nessun modo, voglio semplicemente ricordarvi che questo browser web vi consente di integrare un sacco di strumenti della Microsoft direttamente all'interno del vostro browser di Internet. Ad esempio le schede verticali, le sidebar e tutta l'integrazione con Microsoft Office e Outlook. Ma ora che abbiamo finalmente capito che Chrome non è il miglior browser in circolazione, quali sono le migliori alternative? Magari quelle più adatte a voi e alle vostre esigenze? Ovviamente la soluzione migliore dipende dalla tua particolare situazione e dalla tua paura di essere spiato da qualche agenzia governativa o quello che ti passa per la testa. Usi Apple? Allora la scelta migliore è sicuramente Safari. Utilizzi Windows? Vi assicuro che Edge è veramente fantastico. L'importante è che voi vi prendiate un po' di tempo per esplorare le impostazioni della privacy che si trovano all'interno dei vostri browser. Considerate ad esempio che su Edge esistono ben tre differenti livelli di prevenzione del tracciamento. Abbiamo il basic, il bilanciato e il severo. E sebbene essere anonimi non sia mai garantito su Internet, è bene mettere in chiaro una cosa. A prescindere dal browser web scelto, dovrete trovare un compromesso tra la sua facilità d'uso, la sua velocità e ovviamente anche la privacy. Non esiste il miglior browser web, ma solamente un equilibrio che voi dovrete essere disposti ad accettare. Solitamente privacy e velocità, ad esempio, non vanno a braccetto. Se ad esempio vi trovate nella condizione tale per cui avete la paura di essere tracciati dal governo o da qualcuno che conoscete, beh sicuramente le migliori opzioni sono Firefox e Tor. Il loro vantaggio è di non essere dipendenti da Chromium, quindi se odiate questo mondo avete sicuramente un'alternativa. Però attenzione perché Firefox richiede un attimo di smanettare tra i propri settaggi e quindi per le questioni legate alla privacy dovrete smanettarci un po'. Oltretutto abbiamo la presenza di un sacco di versioni custom di Firefox, come ad esempio LibreWolf, che vi offrono alti livelli di privacy fin dall'inizio, ma richiedono purtroppo delle conoscenze tecniche in più rispetto all'utente medio. Per quello che mi riguarda, ragazzi, io utilizzo Brave per lavoro. Perché? Perché rispetto a Chrome utilizza un terzo della sua RAM. Ovviamente Chrome non l'ho disinstallato sul mio computer, perché a volte devo utilizzare un browser web compatibile con alcuni di servizi che utilizzo online. Però se volete darci un'occhiata è sicuramente una scelta interessante. Per quanto riguarda infine il fattore privacy, io mi affido solitamente ad una VPN, perché i servizi gratuiti oppure quelli offerti su internet non vi daranno mai la certezza che i vostri dati non vengano venduti o utilizzati per chissà che cosa. Vi lascio infine con una domanda. Ma voi, quale browser web utilizzate? E soprattutto, perché? Da Dani qui è tutto e non dimenticatevi di cliccare sul link in descrizione per ottenere lo sconto riservato a voi iscritti. 2,03€ al mese per proteggere tutti i vostri dati e accedere ad ogni contenuto o sguardo su internet. A presto!